Ben trovati, perché si festeggia la nascita di Giovanni il Battista? E questa è un'ottima domanda, perché è l'unico santo con Maria, insieme a Maria, di cui festeggiamo la nascita. E quindi è un'ottima domanda. La risposta è semplicemente perché vogliamo sottolineare l'importanza e il ruolo di Giovanni il Battista. Intanto abbiamo conosciuto Giovanni il Battista nel grembo della sua mamma, Elisabetta. E quindi forse era anche naturale poter festeggiare la sua nascita. Ma come vi dicevo, e anche per l'importanza, il ruolo che ha nella storia della salvezza, Ricordatevi quello che dice Gesù. Gesù lo inalza proprio, inalza la sua figura come un grande uomo, un modello, un esempio per i credenti, un esempio che è da proporre a ogni discepolo del Signore. Eppure se noi guardiamo la sua storia, vediamo che è stato un uomo colpito da tantissime difficoltà, Giovanni il Battista. Anche poi come muore, no? L'Italia non la testa. Per un gioco. Per una promessa fatta a una donna. Noi abbiamo certe volte l'impressione che un santo deve essere qualcosa in cui tutto funziona, in cui tutto va bene. Invece non è così. Giovanni il Battista ha dovuto anche rimettersi in questione, ha dovuto capire, lui che aveva fatto fare alle persone tutto un percorso, capire se poi quando arriva Gesù era lui il Messia che aspettava. Lui ha passato la sua vita a predicare, fino all'arrivo di Gesù. E' bello anche vedere come questa persona, come Giovanni il Battista, si mette indietro o al contrario mostra Gesù ai suoi discepoli e dice di seguirlo. Quindi, se ci pensate, è una bellissima, un bellissimo esempio. E cerchiamo anche noi, attraverso la figura di Giovanni il Battista, di vivere fedelmente la nostra vita, che secondo me è un meraviglioso esempio di umiltà e di amore per Cristo. Grazie a tutti.